Che cosa vi preoccupa di più? Ci preoccupa il fatto che questo aumento delle tasse arriva in un momento storico in cui non ce lo possiamo permettere. Stanno aumentando anche i costi degli affitti, una stanza non si trova a meno di 250 euro, i costi delle bollette sono altissimi. Non ce lo possiamo permettere un aumento delle tasse in questo momento. Se non si è beneficiario di una borsa di studio diventa molto difficile dover tenere sia i costi dell'affitto sia i costi delle tasse comunque. E soprattutto a Lecce negli ultimi anni stanno aumentando molto gli affitti. Ci deve essere una considerazione strutturale molto più ampia su tutti quelli che sono i costi che si sostengono ormai per vivere un percorso di formazione e per cercare anche in qualche modo di autodeterminarsi e di riscattarsi. Tanti studenti universitari si sono ritrovati sotto la sede del rettorato a Lecce per protestare contro l'annunciato aumento delle tasse. Una manifestazione organizzata da Udo e Link Lecce in occasione del consiglio di amministrazione di Unisalento, un aumento che almeno per ora però è stato rinviato. Siamo riusciti a ottenere il rinvio del punto all'interno della commissione bilancio dove proveremo ad incidere e tutelare gli studenti e le studentesse da un aumento della tassazione, perlomeno per quelle fasce ISE dai 25 mila euro in poi fino ai 35 mila euro. Il rettore che cosa vi ha detto? Il rettore si è posto in apertura rispetto a quella che è la nostra richiesta, quindi di rinvio alla commissione, sottolineando una necessità dell'Ateneo chiaramente di essere sostenibili nel sistema di tassazione che andremo a proporre. Abbiamo insomma la possibilità perlomeno di incidere all'interno della commissione bilancio sperando che dia gli effetti che proponiamo.